Il problema di Isambiente è uno di quei problemi che non fa dormire la notte un sindaco, quantomeno non mi fa dormire. Un'insonnia quella del sindaco di Gorizia, Ziberna, causata dal sequestro da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia delle liquidità di Isontina Ambiente. Un provvedimento legato al caso della discarica di Pecol dei Lupi di Cormons e che di fatto blocca il pagamento degli stipendi di aprile agli oltre 100 dipendenti e il saldo delle fatture ai fornitori. E rischia di paralizzare il servizio della raccolta dei rifiuti. Sulle paghe però Ziberna ha una buona notizia. Abbiamo concordato con Issa, ieri ci ha mandato una fattura di 434 mila euro. Abbiamo sollecitato di fornirci in gran fretta le nuove coordinate bancarie che potranno essere aperte anche presso la tesoreria del comune di Gorizia. Lunedì perciò noi saremo in grado di liquidare a Issa ben 434 mila euro. In modo tale da consentire all'indomani, martedì, con queste risorse di pagare ampiamente gli stipendi agli oltre 100 dipendenti e naturalmente alle società che si attendono risorse da parte di Issa. La mia doppia preoccupazione, una era quella di oltre 100 famiglie che in un momento di una tragedia economica come questa, che vede tantissime famiglie che non riescono a raggiungere davvero non la terza ma nemmeno la seconda settimana, aggiungere disgrazia su disgrazia sarebbe stato impensabile. Rimane ancora la preoccupazione invece per un servizio pubblico essenziale come quello dei rifiuti. È prevedibile sacchi davanti a tutte le case, lungo tutte le strade. Non entro nel merito della decisione della magistratura perché assolutamente non mi compete. Voglio essere fiducioso, ottimista che questo intervento da parte della magistratura possa mutare e si possa perciò giungere al dissequestro dei conti correnti di Isambiente.